Ciao, diamo inizio al gioco. Controlla la tua mira e cerca di fare del tuo meglio. Livello 1. Pronto? Vai! Oh, eccellente! Ottimo! Adesso sei tra i primi dieci. Livello 2. Pronto? Vai! Oh, grande! Grande! Ottimo! Adesso sei tra i primi dieci. Livello 3. Pronto? Vai! Oh, eccellente! Ottimo! Adesso sei tra i primi dieci. Livello 4. Questa è la fase finale. Colpisci la tazza. Pronto? Vai! Oh, grande! Diamo un'occhiata alla tua posizione in classifica. Perfetto! Grande! Attendiamo la tua prossima sfida.